I coragini e Iana si inseguono, io chiedo a Carmina Donzelli, che è stata ancora la prima vittima su cui ci siamo avventati, in cui questo gruppo di sciamannati si è addentrato e ha dato la proposta. Facciamo un libro con i quattro, facciamo un libro in cui la carta diventa una piattaforma multimediale e forma. Ho scontato a capofitto in questa impresa, non posso far finta di pensare, però mi intrigava molto questo punto. Io guardo alla visione dal punto di vista del mio mestiere di editore dei libri di carta. Ho scoperto su una composizione di supporti e di formatiche che io personalmente non ho mai condizzo. I giorni già arrivati e che presenteremo, alcuni ci stanno raggiungendo, è praticamente qui vicino così ci ha annunciato, è così il direttore qualche quarto d'ora ha una giornata di verifica ulteriore. Io adesso arrivo a un momento particolare, io devo pagare un debito, noi dobbiamo pagare un debito, chi ha partecipato a questo progetto è un debito che abbiamo congiato con gli anni. qualche ora fa, per favore le luci e via cura, il filmato. Grazie.